L'emozione è sempre grande, oggi specialmente abbiamo fatto questa rimatriata e organizzata in una maniera eccellente di poi entrare in campo, di sentire l'ovazione dei diffusi che ci hanno applaudito qualcosa come 33 anni fa, è sempre bello, è sempre bello l'emozione e ogni volta che personalmente vengo chiamato anche a una cena di un pre, alla quale partecipo è sempre un piacere, sempre bello. Il che ricordo e mi lega di tuo agito è pubblico, è pubblico e nelle varie dinastie passano il termine che hanno iniziato con noi, erano ragazzotti di 10 anni, 12 anni, quindi si ritrova ancora a 40 anni, è bello comunque essere ricordati perché si riferano io personalmente, ma anche il tipo che ha appena calcato questo campo di questa passerella, abbiamo lasciato. Quindi è un ricordo di piacere reciproco, io con i loro conti, dei loro conti, dei miei conti. Cosa vuol dire ai ragazzi che oggi giocano nello Spezza, ai ragazzi della squadra? Che non sanno che fortunano, dal punto di vista societario, una società seria, dal punto di vista dell'impiantistica, dell'organizzazione e poi l'ultimo, che non sono mai soli, perché io mi faccio le partite e non sono mai soli, possono essere 30, 40, 50 o 1000 in casa specialmente, ma anche fuori in trasmetto, non sono mai soli, perché c'è sempre qualcuno degli ultraschelissimi.